Pillole di non solo suoni, la storia della musica passa da noi. Ci sono artisti con i quali le emozioni sono garantite, molti sono stranieri, altrettanti sono italiani e tra loro ci sono anche coloro che hanno deciso di cimentarsi non solo con la musica ma anche con altre arti e chi in particolare con la scrittura e il racconto per lo più autobiografico. Ecco che unire tutte queste caratteristiche è Maurizio Vandelli, ex Chippo 84, un'icona della musica italiana. Proprio Vandelli ripercorre gli anni della sua vita, la sua che potremmo definire ruggente e in particolare gli anni del beat italiano dei quali con il suo gruppo è stato il rappresentante più leggendario e lo fa con il libro Emozioni Garantite che è stato scritto con Massimo Cotto ed è corredato naturalmente da musica sotto forma di due cd, uno con l'interpretazione delle canzoni più famose e indimenticabili di Lucio Battisti, l'altro con le relative basi musicali per l'interpretazione delle canzoni più famose e indimenticabili appunto di quegli anni, gli anni della felicità del tempo trascorso e mai passato. Due anni fa ha invece avuto modo di raccontare in una intervista appena prima dell'uscita del libro, eravamo reclusi in casa, la mascherina a coprirci il viso, gli sguardi pieni di paura e di tristezza, le file ai supermercati col terrore di contrarre un virus sconosciuto e implacabile. A casa cercavo di esorcizzare la pesantezza di quella desolante reclusione facendo il buffone con i miei familiari, giusto per tenerci un po' su o rifugiandomi nel mio studio a suonare. Rifacevo Battisti e scoprivo nuove emozioni, riscoprivo lo stupore che ancora oggi quelle canzoni suscitano. Ho ritrovato la bellezza della musica di Lucio e dei testi di Mogol. Giulio non scriveva canzoni ma sceneggiature da film, racconta ancora Vandelli. Le immagini che riusciva a creare ti davano la sensazione che tu diventassi protagonista di una storia. La coppia, Battisti-Mogol, è stata il capolavoro italiano di quegli anni, così ritrovavo un po' di serenità in quel mare magnum di depressione che ancora oggi aleggia sui nostri destini. Ci sono la guerra e lo spettro dell'inflazione impazzita, delle bollette incontrollabili. Una situazione in cui sento di odiare i politici sempre più per i loro guadagni, per le loro chiacchiere vane, mentre la gente ha bisogno di soluzioni. E poi ecco un altro aneddoto in musica avvenuto a Milano alle due di notte. Sono stanco morto, racconta appunto Vandelli, mi telefona Victor Sogliani, il bassista dell'Equipe 84. O guarda che a casa mia c'è Jimi Hendrix. Alla X di Hendrix sono già in auto, un incontro con il mio mito, una persona dolce e disponibile, completamente diversa dall'immagine che rappresenta sul palco quando incendia le chitarre. E ancora, Londra, suono allo Speakeasy, uno dei locali frequentati dai Beatles e dai Rolling Stones. C'è un angolo privato con un nugolo di musicisti, le chitarre e i primi accordi. Nasce una jam session spontanea, interrotta a un certo punto dai versi sguaiati e stonati di una voce femminile. Monto su tutte le furie, mi rivolgo alla mia sinistra, c'è John Lennon. Gli chiedo chi sia quella, preferisco non riferire l'epiteto, diciamo che non è elegante e lui risponde è mia moglie Yoko Ono, non ho più parlato. Infine nel libro ecco che Vandelli racconta anche del rapporto appunto con Lucio Battisti del primo incontro a Sanremo. Ricordo un suo complimento. Mauri, ho imparato a cantare da te, però ho corretto i tuoi errori. E allora, come chiudere in bellezza se non con uno dei classici da repertorio di Vandelli come 29 settembre, direttamente dall'anno 1965.